È un progetto molto importante di cui siamo anche molto orgogliosi, non sono molti, forse siamo tra i pochissimi ad aver pensato di utilizzare i fondi del PNRR per un progetto simile. Il nostro territorio è caratterizzato da centinaia di piccoli e piccolissimi comuni, a loro volta suddivisi da decine di frazioni. Diventa difficile arrivare nei luoghi della salute, portiamo la salute più vicino con questo mezzo mobile, un camion, non è un piccolo furgone, è un camper, è uno studio medico attrezzato di tutto punto, con le attrezzature, i macchinari moderni, tecnologicamente avanzati che possono fare un spettro molto ampio di analisi, di esami, di diagnosi, di terapie e questo sarà fondamentale intanto per far sentire vicina l'istituzione, la salute, portarla veramente a casa, a domicilio praticamente a casa, nella piazza del paese, tutti potranno senza fare code, senza prenotazioni, senza file, crediamo anche che questo servirà a tagliare molto le liste d'attesa e ad aumentare sensibilmente anche la percentuale di persone a rischio che si sottopongono agli screening oncologici, alle mammografie, ai controlli sulla glicemia, agli elettrocardiogrammi, insomma per verificare lo stato di salute dei cittadini, quindi medicina e anche molta prevenzione da questo punto di vista perché più si fanno screening, più si testano le persone in tempo utile, meno le patologie avanzano e da questo punto di vista diventano sicuramente molto più curabili e anche tutto molto più economico. Un progetto non certamente spot, visto che ha una durata piuttosto nel tempo, quindi 36 mesi. Noi speriamo che questi 36 mesi servano a dimostrare l'utilità e l'efficacia di un progetto che poi siamo ovviamente pronti a rinnovare, modificare, migliorare secondo quello che l'esperienza ci suggerirà, ma io sono molto ottimista sull'utilità di questo strumento. Guardi, è bastato questa mattina metterlo qui, è ancora non in funzione, entrerà in funzione a settembre e nel giro di un'ora almeno 40 persone e in una città come Pescara, dove pure ospedali, laboratori, centri, distretti sanitari non mancano, decine di persone hanno chiesto immediatamente di potersi far visitare. Quindi io sono sicuro che questo mezzo avrà un gran successo e anzi magari quando comincerà a funzionare vedrete se non ci porremo il tema di potenziarlo e di farne anche altri. Grazie tante, grazie.